Questo non è però il primo documentario a cui lavora, quindi siamo già al secondo, giusto? Sì, siamo già al secondo, dopo le sette giornate di Bergamo, abbiamo raccontato che è andato al Festival del Cinema di Venezia, mentre Pannella al Festival del Cinema di Torino, abbiamo raccontato il miracolo degli Alpini. Il giorno del 18 marzo 2020, quando i carri militari portavano via i morti da Bergamo per il Covid, nello stesso momento nasceva, a due chilometri in linea d'aria, l'ospedale degli Alpini, che è nato e è stato costruito in sette giorni. È stato un ospedale anti-Covid, un'eccellenza nel mondo, abbiamo messo meno noi dei cinesi, quindi è stata veramente una grande cosa degli Alpini e abbiamo raccontato questo miracolo, perché è comunque di storie di cui l'Italia può essere orgogliosa, noi italiani possiamo essere orgogliosi e ce ne sono tantissime. Ne abbiamo raccontato due che mi hanno non solo arricchito me, ma hanno arricchito chi li ha guardate e questa è una grossa soddisfazione.